Un programma presentato da Francesco Gomme e Servizi Sostituzione e riparazione degli pneumatici Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto Walter Pucci, carpenteria certificata Lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto Via Toniola 8, Bellocchi di Fano Buonasera e bentornati a Sportissimo Il settimanale di approfondimento di Fano TV Puntata numero 20 Che è anche poi la seconda di questa seconda stagione Sono ore intense per l'Italia del calcio Che sta cercando di conquistarsi un posto Al prossimo europeo E anche di riguadagnare quel credito Che negli ultimi tempi è andato un po' smarrito Credito che però Le nazionali giovanili del calcio Si sono garantiti quest'estate Con risultati davvero straordinari Il secondo posto al mondiale Dell'Italia Under 20 Battuta soltanto dall'Uruguay E l'alloro europeo Conquistato invece dall'Italia Under 19 Del cui staff tecnico Faceva parte in qualità di secondo Dell'allenatore Bollini Enrico Battisti Che è stato poi investito Della carica di allenatore Della nazionale Under 15 Enrico Battisti è qui con noi stasera Buonasera e benvenuto Buonasera Buonasera a tutti Partiamo da questa straordinaria esperienza Che appunto hai vissuto In primissima persona La scorsa estate a Malta L'Italia Under 19 Non partiva mi pare Con i favori del pronostico Con quel Portogallo Con cui poi si è misurata in finale Non era andata bene Nel girone di qualificazione Poi è arrivato all'appuntamento decisivo Conquistato con merito E l'Italia Si è conquistata Il titolo europeo Come hai vissuto questa avventura Come si è sviluppata Questa esperienza Allora è stata Buonasera a tutti Di nuovo È stata un'esperienza incredibile Un'estate piena di emozioni Non solo di Di grande lavoro E grande intensità Ma Piena di veramente Tante emozioni E tante situazioni Che Non si vivono tutti i giorni Non avevamo i favori del pronostico Era stato un percorso Mentre possiamo vedere le immagini Della finalissima con il Portogallo È stato un percorso Per chi ci ha seguito Magari da settembre Anche complicato Con alcune Diciamo Partite Che Non sono andate all'inizio Come volevamo E quindi Questo poi ci ha costretto A fare delle imprese Eliminando prima Germania E poi Belgio Nel turno Elite Per arrivare poi Alla fase finale di Malta In cui Chiaramente avevamo Portogallo E Spagna Che partivano favorite Immagino che ci sia stato Un percorso di crescita Di questa squadra Altrimenti non si sarebbe Arrivati al trionfo Sì Un percorso di crescita Incredibile Ma soprattutto Come squadra E come Valori Extra campo Che hanno fatto sì Che si superassero In maniera compatta Le difficoltà Che l'Europeo Poi ha presentato Al di là del gioco espresso E delle qualità Anche individuali È proprio emerso Questo aspetto Anche all'occhio Dello spettatore Una squadra che era Contenta quasi Di sacrificarsi Di mettersi a servizio L'uno dell'altro Sì Ci sono Delle immagini Dei frame Che ho in mente In cui Questo secondo me È evidente In tanti Me l'hanno fatto notare Che Si è vista Questa cosa Esempio Il gol Fatto con la Polonia Dopo 60-70 metri Palla al piede Saltando tutti Con un passaggio Per un compagno Portavuota Secondo me È simbolico Come C'è un'immagine Che Ho in mente Sul gol In finale Di Di Michael Caio De C'è attorno Tutta I fisioterapisti I magazzinieri I giocatori Della panchina Queste secondo me Sono segnali Che Il gruppo Era coeso Soprattutto fuori dal campo Si parla appunto Spesso di gruppo Ma non è affatto Un luogo comune Nello sport Cosa è cambiato A proposito della sfida Con il Portogallo Tra la partita Del girone eliminatorio E la finale Il Portogallo Intanto È una squadra Fortissima Con giocatori Di Grandissima qualità Alcuni Che si stanno già E si stavano già Mettendo in In evidenza Con le loro prime squadre Anche nelle coppe europee È cambiato Che Nella partita Nella prima partita Quella del girone In Ad un certo punto Loro Noi siamo rimasti in dieci Loro hanno preso il sopravvento E noi Non siamo riusciti A compattarci Poi però I giorni successivi Da lì Noi siamo riusciti A ripartire Ricreando I presupposti Per potercela giocare In finale Sapendo che era Complicata Che era una partita difficile Ma Sapendo anche Che noi avevamo Da colmare Un gap In Alcuni dettagli Che Che potevamo Migliorare Ecco Sei stato il più stretto Collaboratore di Bollini In questa Avventura Un allenatore Del quale Ormai da decenni Si può dire Si parla benissimo Fra gli addetti Ai lavori Quali sono I suoi requisiti Principali Con il mister Abbiamo condiviso Due anni Intensissimi E molto belli Perché eravamo Insieme già Dall'Under 20 Con la quale Abbiamo vinto Poi l'Elite League L'anno precedente Con l'annata 2002 E poi Siamo insieme Stati In questa avventura Dell'Under 19 Bollini È un allenatore Che al di là Delle competenze Da campo Delle sue idee Che riesce a esprimere In maniera Molto incisiva È un allenatore Che Coinvolge tutti Riesce A coinvolgere Anche Diciamo così Tutti i membri Dello staff Dal magazziniere I fisioterapisti I medici E riesce A A A far sì Che Il gruppo Diventi veramente Squadra E che Lavori Tutto Nell'ottica Del Della prestazione Del risultato finale E questo Credo che sia Un grande merito Perché Non sempre Poi le cose Riescono Ma lui Riesce a essere Molto incisivo In questo In campo poi però Ci vanno i giocatori E questa nazionale Comunque aveva Delle individualità Di tutto rispetto Faccio un esempio Quello di Cagliudè Non soltanto perché Ha realizzato Il gol decisivo Ma perché adesso Sta trovando Spazio nella Fiorentina E quello spazio Lo sta avvalorando Con prestazioni Di livello Sì Sì Michael Comunque impressa Nel cuore Nella mente Di Battisti Per parlare Del presente Perché dopo Questa avventura Magnifica L'investitura A responsabile Dell'Under 15 Azzurra Un'esperienza Che tra l'altro È partita Con un primo raduno Giovedì scorso Mi pare A Novarello Ne seguiranno altri Quale responsabilità Ti senti addosso E come hai approcciato Questo nuovo filone Della tua carriera Intanto Oltre a un onore C'è appunto L'onere Di costruire Una nazionale Nuova Perché l'Under 15 È la prima nazionale Che costruiamo E quindi Andare alla ricerca Dei talenti Andare alla ricerca Dei ragazzi Che possono far parte Dei gruppi Delle nazionali Negli anni Poi successivi A venire E quindi Sicuramente Questa è una Grossa responsabilità Che Che mi prendo Volentieri Ma che Sicuramente Mi sento addosso Quindi L'approccio È stato quello Di condividere Con tutte le figure Che avevano Già lavorato In passato Alla costruzione Della nazionale Under 15 Quindi parlo Degli osservatori Tutti i collaboratori Cercando di capire Da loro Da dove partire Quindi per avere Una base Perché già Nel finire Della scorsa stagione Gli osservatori Avevano Visionato Alcune partite Dei ragazzi Under 14 E poi insieme a loro Pianificare una serie Di visionature Di gare Che ci hanno portato La scorsa settimana A convocare i primi 44 giocatori Del nord Italia Adesso andremo avanti Adesso andremo avanti Con giovedì prossimo Altri 44 E via dicendo Per un raduno Del centro A Roma Fra due settimane E uno A inizio novembre E poi A Catanzaro Cosa ti è stato chiesto Della Fida del Calcio Nel momento in cui Ti è stato affidato L'incarico Ma sicuramente Di cercare Di trovare Il maggior numero Di giocatori Di qualità Che possano Fare un percorso All'interno delle nazionali E quindi Questo è un compito Essendo ragazzi Under 15 Che ha un margine Di errore Abbastanza elevato Perché i ragazzi Sono proprio In una fase di crescita Quindi nel giro Di 4, 5, 6 mesi Possono assolutamente Modificare Le loro capacità Coordinative Le loro capacità Anche fisico-atletiche E noi chiaramente Dobbiamo essere pronti A monitorare tutti Per un periodo Che è medio-lungo Perché il lavoro Non è che finisce Quando avremo trovato I 20 Oggi Che sembrano Più bravi Ma andrà avanti Nel monitorare Anche gli altri Perché tra 6 mesi Qualcuno potrebbe essere Più avanti Di quelli che oggi Ci sembrano migliori Compito doppiamente delicato Perché non si tratta Soltanto di individuare Calciatori Che potrebbero Diventare Le stelle Della nazionale Azzurra del futuro Ma anche di rapportarsi Ad adolescenti In un'età Estremamente Così scivolosa Come ci si misura Di fronte a questa Ulteriore difficoltà Sì Sicuramente Parliamo di un'età Con Le sue Complicata Con i suoi problemi Perché i ragazzi Iniziano L'adolescenza Quindi Hanno Magari Svariate Svariate problematiche Svariate problematiche Oltre al calcio E' chiaro che Ci vuole equilibrio Ci vuole Essere di esempio E quindi Io cerco di Se chiedo puntualità Di essere il primo A essere puntuale Se chiedo Rispetto Di essere il primo A rispettare Le scelte Anche che fanno i ragazzi Quindi Cerco di pormi In questo modo Sapendo che Oggi ci sono tante Distrazioni Quindi di conseguenza Bisogna avere L'equilibrio Per essere Credibili Soprattutto E quindi Per rispettare Le regole Che ci diamo E che ci dà La federazione Per portare avanti Un discorso Nella maniera Più Corretta E più Diciamo così Efficace Efficace possibile Più allenatore Più educatore O tutte e due le cose Ma entrambe Entrambe Anzi direi più In questo momento Più selezionatore E poi quando c'è La parte di raduno La parte di In cui Riusciamo a stare Una settimana Dieci giorni Con i ragazzi Allora là Sei anche Allenatore Ed educatore Ma soprattutto Educatore Perché devi comunque Essere una figura Di esempio Com'è il quotidiano Di un allenatore Di nazionale E quali sono i rapporti Con i club Sì Il quotidiano Si parte Dalle visionature Del fine settimana Quindi sabato e domenica Io e i miei collaboratori Siamo sempre sul campo A vedere partite Che Programmiamo In settimana Poi lunedì e martedì Sono giornate In cui facciamo relazioni Facciamo riunioni Zoom Con lo staff Per confrontarci Su quello che si è visto E io Sento Tutti i nostri osservatori Che erano sui campi Per avere da loro Qualche indicazione Suggerimento Di quello che hanno visto Mercoledì E giovedì Sono due giornate In cui Si programma Il fine settimana Quindi Si programmano Le visionature Del fine settimana In cui Io e lo staff Abbiamo anche L'opportunità Di andare Ad aggiornarci Quindi magari Si va a vedere Qualche allenamento Qualche Qualche convegno Mentre poi Il venerdì È una giornata In cui Sostanzialmente Se Inizia la primavera Quindi io mi vedo Partite di primavera Dei ragazzi Un po' più grandi Visto che collaboro Anche con l'Under 18 E Lo sfrutto Per vedere Le partite Dei ragazzi più grandi Ecco E i rapporti con i club? I rapporti con i club Ogni volta che si va Sul campo Io chiaramente Sono molto in contatto Con gli allenatori C'è un clima di collaborazione Comunque Perché a livello nazionale Magari questa collaborazione Non è così solida No c'è un clima Di grande collaborazione Perché comunque sia Io ho rapporti Con molti degli allenatori Dei ragazzi Con i quali collaboro Quando vado a vedere partite Sfrutto sempre L'occasione Per fermarmi E fare Quattro chiacchiere Con l'allenatore Sulle problematiche Che trova qualcuno Su come sta andando La situazione E poi ci sono I miei collaboratori Tipo il preparatore atletico Che sotto Convocazione Ha rapporti Strettissimi Con i preparatori Atletici Dei club Al fine di Ottimizzare I carichi Che poi Verranno Proposti da noi E somministrati da noi Mentre invece Lo staff medico Per qualsiasi cosa O problematica In contatto Con gli staff medici Dei club Il direttore Invece E il coordinatore nostro Hanno contatti Quotidiani Su tutte le categorie Con i direttori Dei settori giovanili Dei vari club Quindi direi che c'è una Stretta collaborazione In questo Quali le competizioni All'orizzonte? Allora Noi adesso Termineremo I raduni territoriali E poi La prima competizione È un torneo In Portogallo Organizzato dalla UEFA Con la partecipazione Oltre a noi Di Portogallo Scozia E Stati Uniti Poi faremo un torneo Questo quando? A fine novembre E inizio dicembre Poi A A metà dicembre Facciamo il torneo Di Natale Che è ormai Un classico Delle Delle nostre Della nostra nazionale Sì E della categoria Under 15 E poi da gennaio Parte un ciclo Di amichevoli Due a gennaio Due a febbraio E due a marzo Con squadre Di tutto rilievo Per poi andare a giocare Il torneo delle nazioni A Gradisca A cavallo tra Aprile e maggio C'è qualcuno Che diventa allenatore In corsa E chi come Battisti Allenatore Lo diventa molto presto Hai iniziato Che non avevi nemmeno Vent'anni Ma quando Hai deciso Che questa Sarebbe stata La tua professione Ma uno Spera E decide Che magari Anche all'inizio Spera che Questa sia La propria professione Poi in realtà È un percorso Ad ostacoli Abbastanza complicato E quindi Lo capisci solo Nel momento in cui Arrivi ad avere Certi incarichi E certe situazioni Che possono essere Diciamo così Quasi definitive Perché di definitivo Nel nostro lavoro Non c'è Mai niente Perché Non esiste Il contratto A lungo termine Ecco E quindi I primi 15 anni Diciamo Sono passati Nella speranza Che fosse Che diventasse Un lavoro Poi Quando ho cominciato Ad andare fuori E quindi Ad allontanarmi Un po' Da casa Allora lì ho capito Che forse Ci potevo stare Che poteva essere La mia professione C'è nel cassetto Il sogno Di guidare Comunque un club Oppure Sei già Appagato Da questa Collocazione In ambito Nazionale Io ho Un cassetto Pieno di sogni Ancora Quindi Non lo so Io penso All'oggi Penso All'oggi Lavorando Nell'ottica Di Fare il meglio Possibile Il compito Che mi viene Assegnato Poi Sicuramente Ho trovato Avevo Toccato Diciamo così Le nazionali E l'ambito Delle nazionali Con la federazione Sanmarinese Adesso Sono molto più dentro Mi piace molto E' chiaro Che il lavoro Di un club È un lavoro Differente Ma Chissà Un domani Oggi Io penso Di fare Un percorso All'interno Delle nazionali Penso Dopo l'esperienza Di quest'estate A un mondiale Penso A un olimpiade Voglio pensare Un po' in grande Però poi Chissà Un club Può sempre essere Un'occasione Da sfruttare E una Diciamo così Un'esperienza nuova Da mettere nel cassetto Grazie ad Enrico Battisti In bocca al lupo Per il futuro Noi torniamo Fra qualche attimo Calcio ora Con il campionato Di serie D L'alma da continuità E i risultati Pareggio Domenica scorsa Notaresco In rimonta Cosa non semplicissima Per una squadra Che fatica a trovare Il gol Che ha il suo punto di forza Nella tenuta Difensiva Come vediamo Dalle immagini Granata sotto A metà Di un primo tempo Affrontato Non con la necessaria Convenzione Oltretutto Un gol subito In contropiede Dopo una palla Persa Sulla tre quarti D'attacco Alma Che nel secondo tempo È entrata in campo Con uno spirito Diverso E ancora una volta Su palla inattiva Sembra essere questo L'unico vero Sbocco realizzativo Della formazione Granata Trovato con il difensore Mancini La rete dell'1-1 Un'occhiata Ai risultati Di questa sesta giornata Del girone F Che mettono in evidenza Il 2-2 del Fossombrone Sul campo della Samredettese Qualche rimpianto Per la squadra Metaurense Due volte in vantaggio E come con il Riccione Raggiunta proprio Nel finale In vetta La classifica Che possiamo Ora scrutare C'è Ilecchietti Che vanta due lunghezze Di vantaggio Proprio sul Fossombrone E la Samredettese Che tra l'altro Sarà avversario A metà settimana Dell'Alma In Coppa Italia Alma che ha sei punti Per la classifica ufficiale Ne avrebbe Totalizzati sul campo Nove In una situazione Ancora delicata Domenica Prossimo a un'altra Partita di grande peso Come quella Del Mancini Contro il Matese Ancora calcio Quello amputati Con una squadra La Sporting Amp Fano Che è reduce Dalla conquista Di Coppa Italia E Supercoppa Doppietta confezionata Al Mancini Protagonista Non fino in fondo In questo caso E spiegheremo perché Lorenzo Marcantonini Che è dello Sporting Amp È il capitano Buonasera E bentornato Buonasera Grazie mille Dell'invito Diciamo di questa doppietta Che ti ha riempito Ovviamente Un inconveniente Accennavamo Un inconveniente Che ha impedito Marcantonini Di rappresentare Quel fattore Che avrebbe Voluto essere Un infortunio Nel corso Della prima partita Quella di Coppa Italia Che ti ha tolto di scena Partiamo da questo Episodio spiacevole Cos'è successo? Sì Se da una parte Diciamo Sono contento Per aver vinto Questi due titoli Dall'altra Ero un po' amareggiato Per l'infortunio Perché durante La prima partita La finale di Coppa Italia Mi sono infortunato Ho avuto un'altra Distorsione alla caviglia E sono dovuto uscire Ho dovuto lasciare Una squadra Abbandonare il campo E quindi Non ho potuto proseguire Ma Hanno combattuto E sono riuscito A ottenere Questo trofeo Guardiamo le immagini Anzitutto Della gara Di Coppa Italia Entrambe Estremamente combattute Vedremo che la seconda Si è risolta addirittura Ai rigori Per la prima Si è dovuto ricorrere Ai tempi supplementari Tra l'altro La squadra davvero Ha dato prova Di grande resistenza E tenacia Perché ha giocato Con l'uomo in meno La parte finale Del match Che partite sono state Viste Per lo più da fuori Allora È stata veramente Una partita di cuore E di carattere Perché quando ti ritrovi A fronteggiare Anche infortuni Problematiche Esce lì La vera squadra Abbiamo Abbiamo dato il massimo E sono sicuro Che tutta la squadra È soddisfatta Di questi risultati Perché Volevamo Giochevamo in casa Eravamo tanto amareggiati Per non aver vinto Lo scudetto Perché avremmo voluto Anche fare Un possibile triplete Ma Due trofei Li abbiamo portati a casa Almeno Ci sarà sicuramente occasione Avversario Diciamo Questo Vicenza Ormai avversario Tradizionale Ve la giocate Sempre voi due Tra l'altro Molti compagni Poi d'avventura In nazionale Sì esatto È ormai un derby Tanti ragazzi Incontriamo poi Giochiamo insieme in nazionale Quindi C'è tanta coesione Ma quando sei in campo Ci sono pochi amici Ognuno vuole vincere E dopo È una guerra E in effetti Anche a scorrere le immagini Si vede comunque Una dose di agonismo notevole Tra l'altro Ora vedremo purtroppo Anche Il tuo Infortunio Assolutamente Casuale Che però Ti ha impedito appunto Di Continuare La gara Dicevamo di uno Sporting AMP Che con queste iniziative Si pone in evidenza Anche come soggetto Organizzatore Di queste competizioni Esatto Sì perché anche L'organizzazione È molto importante Quando ci sono Gli eventi a Fano Questi tipi di eventi a Fano C'è grandissima visibilità Infatti ringraziamo Tutte le persone Che hanno contribuito A creare E fare in modo Che si tenesse a Fano Allo Stadio Mancini Perché per noi È un grande onore Giocare lì Per me è un grandissimo Onore giocare Nello stadio Della mia città E portare in alto Anche i colori Della mia squadra Poi dopo ovviamente Il ministro di infortunio È avvenuto veramente In modo In modo spiacevole Casuale Perché non c'è stato Neanche un contrasto Di gioco Però È andata bene Alla fine Sì perché c'era Inizialmente La preoccupazione Che si potesse trattare Di qualcosa di serio Fortunatamente Gli accertamenti clinici Gli esami strumentali Hanno escluso Appunto Complicazioni serie Insomma È tirato il sospiro Di sollievo Esatto sì Perché poi Oltre a questi due eventi Ci sarà anche Un grande evento Questo Prossimo mese A novembre Che avremo La Champions League Proprio con lo sporting E dovremo andare in Spagna Quindi Per fortuna Riuscirò a partecipare Senza problemi Esatto Parliamo appunto Di questa Champions League Un'ulteriore esperienza Credo Grande fascino Come tutte le Champions League Con chi vi misurerete E se avete Delle chance concrete Di alzare questo trofeo Allora ovviamente Quando partecipiamo A un evento Di questo calibro Sei sempre carico Al massimo Vuoi sempre arrivare Fino in fondo Per poi vincere Le squadre Come dicevo prima Sono molto competitive Anche perché Abbiamo nazioni Come la Turchia Squadra Di calibro Dei campioni polacchi Quindi In queste nazioni Dove il calcio amputato È molto professionistico Abbiamo Abbiamo Una grande dose Diciamo Di voglia Però Dall'altra parte C'è anche consapevolezza Che dovrete Confrontarvi Con realtà Forse molto più evolute Esatto Esatto Noi siamo Nel girone Con Il Vis della Cracovia Che è il campione Del campionato polacco Dell'anno scorso Contro il Flamengo Che è Della Spagna E contro Il Tbilisi Che è della Georgia Mentre Nell'altro Nell'altro girone Ci sarà È una squadra Turca Una squadra inglese E irlandese Quindi Sono È molto combattuto È una squadra francese Il Paris Quindi Sarà molto combattuto Sarà Diciamo molto Divertente Nel peggiore dei casi Comunque Accumulerete ulteriore esperienza Che vi tornerà utile in futuro Sicuramente Questa è la seconda Champions League Che facciamo La prima non è andata Proprio bene Perché Era la nostra prima esperienza Di questo calibro E Avremmo voluto dare di più Quest'anno abbiamo una squadra forte Abbiamo una squadra Con tanti cambi Con tanta voglia di vincere Quindi sono sicuro Che daremo il massimo E che ci toglieremo Tante soddisfazioni Tra l'altro Avete anche voi Degli stranieri Che mi pare Stiano dando un contributo L'abbiano già dato E stiano continuando a dare Un contributo sostanzioso Alla causa Sì Perché C'è anche possibilità Di far giocare ai stranieri Come in tutte le squadre E noi abbiamo accolto Quest'opportunità E abbiamo Sia un giocatore polacco Molto forte Che è il capitano Della nazionale polacca Che si chiama E sono pronominato Messi Quindi si può immaginare Le qualità Poi abbiamo Di giocatori francesi E anche spagnoli Quindi Abbiamo Un grande Una grande Ampia scelta Per giocare Champions League A livello di club Ma c'è anche la nazionale Ci siamo messi alle spalle Precedentemente A questa doppia competizione Di Fano La National League Divisione B Concentramento Che ha visto Protagonista l'Italia Tre vittorie su tre E la promozione Nella divisione A Anche questa Un'ulteriore Soddisfazione Un ulteriore motivo Di orgoglio È stata veramente Un'emozione assurda Perché poi quando Esci dall'Italia Per portare in alto La tua nazione È sempre un'emozione Poi abbiamo Giacciato contro la Francia La Germania E l'Irlanda Abbiamo vinto Tutte e tre le partite E ti trovi Veramente A vivere Sensazioni Uniche Nel suo genere Siamo riusciti A salire Nel girone A Sarà anche lì Una bella sfida Però per il momento Visto che non ci sono Impegni ulteriori Ci godiamo Il trofeo E la qualificazione Ai prossimi europei Che saranno A Danensi In Francia Dove si è svolta Questa competizione Tra l'altro Esatto Si è svolta in Francia Quindi abbiamo vinto Anche a Casaluro È stato anche Anche più divertente Tra l'altro Marco Antonini Non ha perso Nel frattempo Il vizio del gol Anche in questa Manifestazione è andato a segno Come possiamo vedere Dalle immagini Nella gara Proprio contro i padroni Di casa In qualche modo Ripetendo le gesta Del mondiale Dove anche Nella veste Di realizzatore Ti è rimesso In evidenza Ecco qua l'azione Che porterà appunto Al gol Contro la nazionale francese Con palla rubata Contropiede che scatta E diagonale Vincente Con esultanza A corredo Sempre molto colorito Sì 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 Poi era la finale Era veramente una partita Importante Perché la sentivamo Se vincevamo questa Vincevamo la National League È stato veramente importante Poi sbloccare la partita All'inizio E tira sempre Una carica in più Nazionale Club Ma anche Esperienze di club All'estero Perché Marco Antonini Ha azionato il fatto Che nello Sporting Amp Giochino Giochatori Calciatori stranieri Ma lui a sua volta Assume la dimensione Di straniero Nel campionato polacco Perché è stato Incaggiato Da una formazione Polacca Che disputa Il massimo Campionato In un paese La Polonia In cui il calcio Appuntati È molto evoluto È così Sì è molto evoluto Sono il primo italiano Calciatore paralimpico Che è stato chiamato Da un club estero E quindi sono il primo Calciatore Amputato a giocare All'estero Ed è veramente Un onore Un'emozione Perché Tra l'altro Ti hanno nobilitato Raffigurandoti Nella Locandina Che pubblicizzava Le partite Dell'ultimo fine settimana Sì 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 Infatti Anche lì è stata Una bella emozione Perché là Essendo molto seguito Essendo molto pubblicizzato Ti ritrovi In un altro tipo Di mondo È un'emozione È una grande Una grande esperienza Perché vai in un'altra Nazione E scopri Veramente un altro mondo Vai lì a giocare E devi portare in alto Il nome di un altro club Che magari Non è come in Italia Che è il Biersco Biala Biersco Biala Esatto Anche lì Hai tante Tante pressioni E devi fare Tanti sacrifici Soprattutto Anche quando Devi andare a fare I ritiri con la squadra Quindi Devi stare molto tempo In Polonia Ti devi adattare Alle abitudini locali Al cibo locale Che è abbastanza differente Da quello italiano Immagino migliore Un po' rivedibile Come cosa Però Detto questo Per il calcio Questo è altro Dicevamo di questa Ulteriore esperienza Che si aggiunge A tante altre La tua agenda Mi pare leggermente piena Tra l'altro Sei reduce Dalla partecipazione Di un evento Che si è svolta All'Ancian Cloud Di Milano Del quadro Della Tua partecipazione All'esperienza Della fondazione Bebevio Sì esatto L'associazione Art for Sport Di Bebevio Ha organizzato Come ogni anno Questo evento All'Alliance Cloud Che si chiama We Unbrace Ed è fantastico Perché in un palazzetto Coinvolge Sia atleti paralimpici Che olimpici Infatti abbiamo fatto Anche una partita Di calcio Dimostrativa Dove c'ero io E tanti altri ragazzi Paralimpici E abbiamo giocato Anche con Fabio Galante Con Regina Baresi Contro Sebastian Frey E tanti altri Calciatori di spicco Sia paralimpici Che olimpici Ed è Un modo Per far vedere Per far crescere Il movimento Paralimpico in Italia Non solo di calcio Perché c'era anche Basket in carrozzina Setting volley E scherma Però è Per mostrare Che esiste Un altro lato Dello sport Anche più bello A volte Allora calcio Allora promozione Dello sport paralimpico Ma anche A proposito di sport paralimpico Un anno Il 2024 Che prevede Le olimpiadi di Parigi Ora Appunto Il calcio Le olimpiadi Non te le può garantire L'atletica leggera Sì Sei stato primatista mondiale Dei 400 Sappiamo della vicenda I 400 Non possono Permetterti La partecipazione All'olimpiadi Perché non sono previste Nel programma Ci sono i 100 metri piani E tu Dall'inizio dell'anno nuovo Mi pare di capire Ti dedicherai Di nuovo all'atletica Per cercare Di centrare Questo obiettivo Estremamente complicato Ma Tentare non nuocere Certo Per un atleta Credo che Sia olimpiadi Che paralimpiadi Sia il punto più alto Della carriera Tu devi arrivare lì Perché vuoi dimostrare A tutto il mondo Ciò Ciò che sei capace La sfortuna Vuole che il calcio paralimpico Il calcio amputati Non sia sport paralimpico E quindi mi concentrerò Nuovamente Sull'atletica I 100 metri Sono una disciplina Veramente difficile Perché C'è tanta competizione A livello internazionale Ma anche nazionale Quindi Adesso Finita la Champions League Cercherò Di Rimpegnarmi Di rimettermi giù Perché È un obiettivo concreto Che voglio raggiungere Poi Vedremo Darò il massimo E non avrò rimpianti Quello è sicuro Sul piano della preparazione Quello che fai per il calcio Comunque te lo porti in dote Anche per l'atletica Oppure sono Discipline così diverse Per cui Insomma I cammini non procedono Parallelamente A livello fisico Comunque aiuta molto Sia Che maleno per il calcio Sia che maleno per l'atletica Perché È una cosa che Aiuta entrambi Tra virgolette Però poi Quando vai sui dettagli Non c'è storia Lì Nell'atletica Devi essere Al 100% Al top E non devi sbagliare nulla Perché sei te Contro te stesso Non affronti gli avversari Quando sei in pista Ed è una cosa Che ho notato Perché c'è molta differenza Ovviamente Dal calcio Con lo sport di squadra E lì devi dare Veramente Il massimo E spero di farcela Per non farsi Marcare niente Marco Antonini Anche studente universitario Lì come vanno le cose? Se possiamo cambiare domanda Anche questa È un po' Però credo che comunque Anche in questo caso La tua tenacia La tua determinazione Qualche risultato lo porterà Poi vediamo Quali risultati E quanti Sicuramente Perché è una cosa Che ci tengo io Ci tengo la mia famiglia Comunque lo studio È molto importante L'università È un'esperienza Che ho voluto fare io In primis Perché ti fa crescere Ti fa crescere come persona E soprattutto andare via da casa Perché Adesso Sono più a Bologna Che a Fanno Perché l'università È a Bologna Mi sono trasferito E vivo un'altra vita Perché Fanno è bellissima Però quando vai in altri posti Ti devi adattare È una grande città E con l'università È molto impegnativa Tra gli studi Tra lo sport È molto molto impegnativo Insomma il lavoro non manca Grazie a Lorenzo Lollo Marco Antonini In bocca al lupo Per tutto Noi torniamo Fra qualche attimo Deviamo adesso verso il volle Il campionato di A3 Che si è aperto domenica scorsa Esordio con il botto Per la Smart System Che a Tricase Nella Tana del Lecce Si è imposta in 3-7 Era un debutto temuto Per il campo Nel quale si andava a giocare Per la qualità di un avversario Comunque abituato a fare bene In questo campionato E per le incognite Legate principalmente Non soltanto alla prima di campionato Ma anche alla tenuta Del nuovo posto Lo slovacco Mikalovic Arrivato solo di recente La Smart System però Ha assunto subito Il controllo del match Qualche problema Soltanto nel secondo parziale In cui comunque È stato rintuzzato L'allungo dei padroni di casa Il testa a testa finale È stato risolto Dai Virtussini Che poi hanno gestito Abbastanza autorevolmente Anche il set conclusivo I risultati Di questa prima giornata Di campionato Vittoria larga Anche per il San Giustino E per il Napoli Prossimo avversario Della Smart System Nel debutto Al Palace Allende Di domenica prossima Vince anche Portandosi a 4-3 In classifica Il Lago Negro Successo invece Al tie-break Per Sorrento Anche Macerata Fa bottino pieno Contro Bari Come possiamo vedere Da una classifica Ovviamente Ancora interlocutore In cui comunque La Smart System Si pone subito All'altezza del ruolo Che le è stato assegnato In sede Di pronostico Vale a dire Quello di Protagonista Di questo torneo E tocca adesso Al rugby Disciplina in crescita Sul territorio In crescita anche Sul piano dei risultati Perché è iniziato Da pochissimo Il campionato di Serie C E l'SPG Fano È partita con il piede giusto Due vittorie stue Entrambe in trasferta Di questo e di altro Parleremo con Walter Colaiacomo Direttore tecnico Dell'SPG Fano Rugby Buonasera e benvenuto Buonasera E con il capitano Della formazione Rosso-Blu Gabriele Breccia Buonasera e benvenuto Anche a lui Buonasera Dicevamo di un avvio Decisamente convincente Vittoria prima a Macerata Poi domenica scorsa A Foligno Era nei piani Questa partenza Fulminante Oppure è stata dettata Dalle circostanze Con la Iacomo No no Era nei piani Volevamo partire bene Per mandare subito Un messaggio Chiaro Al campionato Al girone Che quest'anno Dopo molti anni Un girone unico Dove poi le prime due squadre Andranno a fare Delle finali Per accedere Alla categoria superiore E allora Sì C'eravamo posti Questo obiettivo Di partire subito Forte E col piede Sull'acceleratore Schiacciato E per Così Imprimere Già Una Direzione Una direzione Molto Chiara Su Quello che poi Vogliamo che sia Il nostro percorso Quest'anno Mi pare di capire Che ci siano delle ambizioni Breccia Sono ambizioni Per riposte Sì Secondo me Adesso senza Senza esagerare Ma lo vedo come un obiettivo Sicuramente la finale Diciamo Per lo spareggio Per andare alla B Lo vedo come un obiettivo Quindi per noi L'obiettivo minimo è quello Poi dopo ovviamente La finale va giocata Quindi vedremo Cercheremo comunque sia Di arrivare al top Della forma Sia mentale Che fisica Soprattutto l'ultima parte Della stagione Dove Magari Tra infortuni O comunque sia Tante partite nelle gambe Ci potrebbero essere Cali fisici o altro Quindi a livello mentale Soprattutto ci stiamo lavorando Per essere sempre pronti A qualsiasi evenienza Dove ha fatto la differenza La squadra A Macerata Prima e poi a Foligno Beh sicuramente Nell'atteggiamento mentale Prima di tutto Perché i ragazzi Sono entrati in campo Convinti Delle proprie Delle proprie possibilità E anche Con una grande capacità Di mantenere La focalizzazione Sugli obiettivi Della partita Specifica Nell'ultima partita Poi devo dire Che c'è stato Una Sicuramente Una Un contributo Del reparto Della mischia Determinante Schiacciante Addirittura E dove I tre quarti Cioè il reparto Il reparto veloce Sono stati All'altezza Nell'approfittare Di tutto Il lavoro Veramente Straordinario Fatto dalla Dalla mischia chiusa Quindi questi sono stati Diciamo Le cose che subito Sono Sono emerse In questo inizio campionato Quali breccia Potrebbero essere Le avversarie più temibili Di questo raggruppamento Ma adesso Diciamo I nastri di partenza Penso Ancona Come squadra Comunque sia sempre Una squadra Con un bel pacchetto Di mischia Con tre quarti Organizzata E Vedo Ho visto bene Anche Macerata In realtà Perché comunque sia Magari Uno guarda il punteggio Pensa che Sia stata Insomma Una partita In discesa In realtà È sempre Sempre una squadra Che Sulla Diciamo Sulla distanza Viene sempre fuori Come capacità Di ripresa E tutto Quindi Penso a queste due squadre Essenzialmente Come principali antagoniste Volendo raccontarla Questa squadra Quali sono Le caratteristiche Fondamentali La caratteristica fondamentale Devo dire Che è il gruppo Devo dire Ragazzi Che hanno Che ci tengono a fare bene Che stanno I bene insieme E E Soprattutto Un gruppo appassionato Appassionato Delle cose Delle cose Che fanno Che fanno In campo E Questo Questo emerge Emerge anche Durante le partite Durante le gare Ovviamente Noi stiamo insieme Durante la settimana Ma Credo che Tutte le persone Che poi Seguono la squadra Se ne possano Rendere conto Di questo Perché È proprio La passione Che mettono Nelle cose Che fanno Ecco perché Io Continuo ad avere Una grandissima fiducia Nei ragazzi E nella crescita Ulteriormente Nei ragazzi E soprattutto Nella capacità Che ha questo gruppo Di accogliere I più giovani Noi In tutti questi anni Ma già Nelle prime Nelle prime partite Ci sono stati Altri inserimenti Di giovani Anzi Anzi Alcuni Molto giovani Però Devo dire Che Il gruppo Diciamo Anche I più anziani Hanno Veramente Grandissime qualità In questo Nel permettere Ai più giovani Di inserirsi Al meglio E di solito Nello sport La ricetta Vincente Miscelare L'esperienza Dei più anziani Con l'esuberanza Dei giovani E questo Il vostro caso Sì Sì Possiamo dire Possiamo dire Di sì Possiamo dire Di sì Miscelare Però devo dire Che Ripeto La maggior parte Del contributo In questo Lo fanno i giocatori stessi Lo fa il gruppo stesso Noi che abbiamo Un Diciamo Un ruolo Di supporto Di organizzazione Dell'attività E che Ovviamente Anche in questo Cerchiamo di dare Il nostro Contributo Ma se non c'è Quella Quella cosa Che è anche difficile Da definire E che Appartiene Alla qualità Delle persone Che E degli atleti Però che Prima di tutto Sono persone E Questa cosa qui Poi non Viene fuori E devo dire Che c'è Che c'è Da questo punto di vista Da questo punto di vista Proprio umano Una grandissima qualità I risultati si ottengono In campo Breccia Ma c'è sempre qualcosa Dietro che deve funzionare Prima ancora Della squadra Avete alle spalle Una società Che negli anni Ha sempre aggiunto qualcosa Ha continuato a crescere Siete consapevoli di questo Ed è uno dei vostri punti di forza Sì assolutamente La società La metto Anche se io Non la difisco nemmeno Perché per me È come una famiglia ormai Siamo Praticamente Una grande famiglia E siamo partiti Praticamente insieme Perché io gioco Dal Diciamo Dal primo anno Dell'esordio In serie C regionale Allora E basta Passare al campo Anno dopo anno Si vedono proprio i progressi Non solo Non solo a livello di staff Dove abbiamo aggiunto Ovviamente Allenatori Preparatori Fisioterapisti Eccetera Ma anche a livello di strutture Dove siamo riusciti A creare A costruire Insomma Una club house accogliente Stiamo lavorando adesso Per Un po' Per strutturare Un po' Tutto il lavoro Anche della palestra Che è sempre Importante Per una squadra di rugby Quindi Ogni Abbiamo aggiunto La nutrizionista Insomma Diciamo Ogni anno Ci sono novità Ogni anno C'è qualcosa in più Che ci aiuta A puntare A raggiungere L'obiettivo che abbiamo E di fondo Come diceva Con la Iacomo La passione Perché senza quella Credo Che non si sarebbe Tutto questo entusiasmo Nell'andare la sera D'inverno Al freddo A dimenarsi Sul fango Sì Sì Assolutamente Poi alla mia età Che io sono tra quelli meno giovani Prima parlavamo di Tanti giovani Io sono tra i meno giovani Quindi tu porti l'esperienza Esatto Io porto l'esperienza La freschezza ci pensano La freschezza a altri Non ho data tanta Di freschezza Adesso porto esperienza E devo dire Che la passione È quello che La mattina mi fa alzare E dire Non vedo l'ora Di andare al campo Stasera Quindi Questa era Una colonna portante E il lavoro Sulla struttura È stato uno Dei temi conduttori Di questi anni Dell'SPG Fano Rugby Che portate avanti Credo con grande metodo Anche Sì Devo dire Grazie al contributo Di componenti Della società Di collaboratori Già la struttura attuale Da come era in origine È stata migliorata Proprio dal punto di vista Della logistica Con l'aumento del numero Degli spogliatori La clubhouse A cui faceva riferimento Gabriele Che è proprio Il cuore Anche Dell'attività sociale Del club E poi Adesso Siamo in attesa Di Diciamo Di Questo Intervento Che attendiamo Tutti con ansia Proprio per Il campo Per 15 Dove Il riferimento È al progetto Che è stato illustrato Già da tempo Da parte della provincia Che è proprietaria Dell'impianto In cui L'SPG Fano Rugby Svolge la propria attività Che dovrebbe portare Ad una generale Di qualificazione E anche Soprattutto Alla posa Del sintetico Il che garantirebbe Non soltanto Alla prima squadra Ma anche Alle squadre giovanili Di sviluppare L'attività In maniera Molto più compiuta Ecco Quanto beneficio Porterebbe Avere un campo Insintetico Tra l'altro Campo insintetico Che immagino Troverete in altre realtà Che andate a visitare Nel corso del campionato Ormai Diciamo che il sintetico Allora Quando ho iniziato a giocare Io era un po' un tabù Il sintetico Diciamo Non era molto Frequente Insomma Incontrarlo Però ecco Negli ultimi 4-5 anni Anche L'evoluzione Sul manto erboso In sintetico Permette Di avere un sintetico Per il rugby Che non comporta Nessuna Contraindicazione Ecco Poi ovviamente Noi avendo le giovanili Nel frattempo i puristi Sono diminuiti Esatto Esatto Poi comunque Dicevo Avendo le giovanili Avendo bambini piccolini Eccetera eccetera Avere un campo insintetico È una comodità Anche per i genitori Che portano i figli al campo E darebbe un ulteriore impulso A questa attività giovanile Che mi pare Però abbia già raggiunto Buoni numeri Sì Sì I numeri I numeri sono buoni Sono soddisfacenti Però ovviamente Noi non Ci culliamo Sugli allori E quindi Questo ulteriore intervento Sicuramente sarebbe Per noi Un ulteriore elemento Per poter poi Pensare Ad uno sviluppo Ed un aumento Anche dei praticanti Oggi Abbiamo una struttura Anzi Per fortuna Che ce l'abbiamo Però Obiettivamente Limita Limita Soprattutto Quello che è L'idea Di sviluppo Futuro del club stesso E quindi per noi Sarebbe Un'aggiunta fondamentale La Così Avere un campo Un campo Che permetta In ogni momento In ogni condizione Anche climatica Di poter fare attività Tra l'altro La prospettiva Che credo Inseguiate Quella di diventare Sempre più Punto di rifendimento Di un intero territorio Tra l'altro Anche la prima squadra È in questo senso Espressione di questo Impegno Che si sta Sviluppando Anche sulle vallate Assolutamente Sì sì I giocatori Abbiamo giocatori Della prima squadra Ma non soltanto Anche delle giovanili Che vengono Non solo Dalla Dalla città Dalla città Con società Del territorio Come il Sena Che è una società Diciamo Che fa attività Giovanile Di Senigallia Dove ormai Sono almeno Tre anni Che collaboriamo Quest'anno Tra l'altro Abbiamo iniziato Anche una collaborazione Solo per la categoria Under 18 Con il Pesaro Con il Pesaro Rugby Con l'obiettivo Ovviamente Di Lì però C'è un obiettivo Tecnico Cioè quello Di alzare Il livello Il livello Tecnico Quindi consentire Ai ragazzi Di vivere In un contesto Dove possano Crescere Ulteriormente Proprio dal punto di vista Tecnico E atletico Fanno rugby Che ha sempre avuto Come priorità Anche l'impegno Nel sociale Ci sono un paio Di ulteriori progetti Che si stanno portando avanti L'uno per l'altro Per consentire A ragazzi Con disagio Di vario genere Di avvicinarsi Allo sport E sabato Anche un evento Oltre il limite Sempre indirizzato In quella direzione Fanno rugby di muoversi Proprio a livello territoriale Non rimanere Diciamo isolati In un luogo specifico Sì Attività nel sociale Che ormai Contradistingue Questo club Da Si può dire Quasi Dalla Nascita Quindi con tutta L'attività Del rugby Cosiddetto integrato E poi C'è questo appuntamento Di sabato 28 Appunto Oltre il limite Proprio un momento Anche di riflessione Di confronto Rispetto a tutta Questa tematica Dell'inclusività Dello sport Come strumento Di inclusione E che sport Che poi Tutti Noi adesso parliamo Di risultati sportivi Che ovviamente Hanno Una loro valenza Ma noi non vogliamo Dimenticare Quello che poi è Il significato Fondamentale E fondante Dell'attività sportiva Che è quello Proprio di dare un contributo Alla formazione Della persona Prima di tutto Ed è questo Ha sempre contraddistinto Fin dall'inizio L'obiettivo Proprio di Di formazione Del fano rugby Gettiamo un po' Più in là Lo sguardo Andiamo in Francia Dove si stanno Svolgendo i mondiali Che sono arrivate Alle fasi Finali Breccia Hai seguito le partite E che valutazione Dai Delle prove Della nazionale Azzurra Qualcuno forse Si aspettava Di meglio O di più E anche il tuo parere Ma allora Io Sinceramente Allora Contro i All Blacks Ovviamente Allora Partiamo dall'inizio Namibia e Uruguay Due partite Dove l'Italia Insomma ha dimostrato La sua superiorità Eh sì La sua superiorità Sia fisica Che tecnica E forse lì Qualcuno ha sperato Che ci potesse essere Un salto Esatto Un salto Che noi sono vent'anni Che lo aspettiamo Dall'esordio Delle sei nazioni Quando è diventato Sei nazioni Grazie all'entrata nostra E noi aspettiamo Questo salto Cioè ovvero Andare a giocare A quel livello lì Cioè diciamo Non per forza vincere Però fare una prestazione A livello dei All Blacks Diciamo che i All Blacks Non ci hanno portato a terra Ma non è che ci hanno riportato Qui piedi a terra Ma ci hanno proprio sbattuto Per terra Con quel 96 a 17 Che lascia poco Però ecco Io più che Su quella Su quella partita lì Io mi aspettavo Una reazione contro la Francia Perché comunque sia A parte il discorso Di Cugini No? Di Transalpini Eccetera eccetera Che c'è sempre questa C'erano anche dei precedenti Che potevano appunto Sperare In un confronto Un pochino più Equilibrato E invece Abbiamo preso proprio La fase calante Cioè diciamo che Gli All Blacks Non solo hanno messo a nudo Le nostre carenze Fisiche Tattiche Tecniche Ma anche mentalmente Ci hanno proprio dato La botta finale Per cui non Non siamo riusciti Nemmeno a fare una reazione Che giustificasse Un risultato Insomma D'orgoglio Ecco Con la Francia Velocissimo Con la Iacomo In semifinale Le squadre migliori Al mondiale No Non le squadre migliori Per un problema Proprio di organizzazione Dei gironi Di accoppiamento Sì Proprio di composizione Dei gironi Che hanno fatto riferimento A un ranking mondiale Che risaliva Un anno e mezzo prima E invece Diciamo che I valori in campo Dell'ultimo anno Hanno espresso Hanno espresso Altri Altri valori Appunto Sicuramente Francia Nuova Zelanda Sud Africa Irlanda Francia e Irlanda Non le vedremo In semifinale Ma Diciamo che sono queste Le squadre migliori Che ci sono Che ci sono Al mondo Però Nello scopo Però è Interessante Perché Dall'altra parte C'è sempre Una squadra Di grandissime tradizioni Come l'Inghilterra Anche se Nell'ultimo anno e mezzo Diciamo Sembra Sembra Pagare un po' Dazio Dazio E Dall'altra parte Sempre L'Argentina Che Che ai mondiali Che ai mondiali È sempre una squadra Che dà sorprese Assolutamente Però probabilmente Così Mi lancio in un pronostico Chi vince la semifinale Nuova Zelanda Sud Africa Vince il mondiale Grazie a Walter Colagliacomo Direttore tecnico Dell'SPG Fano Rugby Grazie al capitano Gabriele Breccia Grazie a voi Per averci seguito Anche questa sera Vi aspettiamo La settimana prossima Grazie a tutti